La stagione 2016-2017 presenta 10 titoli, 5 dei quali sono nuovi allestimenti, 7 mai visti in Italia e apriamo e chiudiamo con opere italiane, Puccini Verdi, che è la cornice della stagione e presenteremo sempre i fili rossi caratteristici delle nostre stagioni, cioè il musical, l'opera barocca e anche il ciclo Janacek con le regie di Robert Carson. Speriamo che sia una stagione che piaccia tantissimo al grande pubblico torinese.